Con Outdoor Chef il barbecue è per ogni stagione. Il nostro calendario non mostra i mesi, ma carni, pesci e verdura di stagione. Il nostro amore per il barbecue unito alla creatività e dalla nostra esclusiva tecnologia innovativa ti garantiscono l'esperienza di barbecue strepitosa. Quando Mike Lingwood inventò il gas kettle barbecue, 20 anni fa, egli sognava di una sana, versatile e semplice cultura del barbecue e di persone che grazie ad essa potessero avere uniche esperienze di cottura all'aperto. Il barbecue sferico a gas sta diventando un successo mondiale. Una grande varietà di innovazioni e accessori funzionali fa sì che la nostra barbecue culture venga celebrata sempre da più persone. Con la gamma di barbecue a gas, carbone ed elettrici, Outdoor Chef è sempre più un prodotto di primordine nel mercato internazionale. Il nostro obiettivo è offrire la migliore soluzione per ogni tipo di barbecue. Il cuore del barbecue sferico a gas di Outdoor Chef è l'imbuto Easy Flip. Esso serve a variare la distribuzione del calore da ingretta a diretta in una manciata di secondi. Nello stesso tempo evita completamente le fiammate e l'eccesso di fumo sgradevole. Gli indistruttibili bruciatori in ghisa smaltata del sistema barbecue australiano accumulano il calore e lo ridistribuiscono uniformemente in tutta la camera di cottura. I copri bruciatori sono stati studiati appositamente per preservare il cibo dalle fiammate. Il segreto del barbecue sferico a carbone Outdoor Chef è l'imbuto Easy Slide. Grazie ad esso il cibo può essere spostato da cottura indiretta a diretta con un solo semplice movimento della mano. Il barbecue elettrico Outdoor Chef è uno dei più popolari della sua categoria, anche grazie al sistema Easy Reflect, il quale distribuisce il calore uniformemente, avvicinando le prestazioni del barbecue elettrico a quelle del gas. Che sia grigliare, cucinare o cuocere al forno, gli accessori ti faranno divertire ancora di più con il tuo Outdoor Chef, perché quasi tutto è possibile. L'unica cosa che non puoi fare con il tuo Outdoor Chef è il gelato.